Presso il convento di San Francesco di Lustra, il prossimo 28 giugno, ci sarà la presentazione di un libro molto interessante, scritto dal giornalista Gigi Di Fiore, L'ultimo re di Napoli. Allora, come sarà strutturata la serata? Spieghiamola ai telespettatori di Cilento Channel e invitiamoli ovviamente a questo importante evento. Speriamo che vengano un po' tutti gli amici e i soci della Prologo San Martino. Noi quest'anno a livello organizzativo stiamo presentando tantissimi libri, ma questo del giornalista Di Fiore, uno dei più importanti in poche parole. Abbiamo pensato con il dottor Ricci di invitare anche degli amici che hanno un gruppo folcloristico di Valle Cilento, che si chiama i figli del Cilento, per dare un po' anche a livello di nostra tradizione di far conoscere almeno qualche pezzo. E allora cominceremo sicuramente con qualche pezzo folcloristico e poi ci sarà la serata dedicata con l'autore e con le varie personalità che poi ci menteranno a formare la serata in questa circostanza. Poi ci sarà qualche altro pezzo musicale e quindi alla fine ci sarà anche un dibattito che parlerà, se non sbaglio, proprio del periodo in cui ci sono degli storici tipo anche Beppe Barra, che è il nostro, diciamo, storico d'eccellenza perché lui è anche il nostro editore dei vari libri che abbiamo presentato in questi anni. Andrea, l'ultimo re di Napoli, il giornalista del mattino Gigi Di Fiore, ecco, avremo l'onore di ospitarlo nel Cilento, incuriosiamo un po' i telespettatori, brevemente, questo libro di cosa parla? Allora, sì, Francesco II possiamo dire che è uno sconfitto della storia, la cui sconfitta coincide con la fine del regno delle due Sicilie, quindi del regno di Napoli, dell'Italia meridionale. Mentre dopo l'unità d'Italia, quindi con il risorgimento, la figura di Francesco II è stata sempre un po' bistrattata e resa quasi come considerato un inetto, un bigotto, un incapace di reagire, di decidere su dei fatti che gli stavano accadendo attorno, tanto da affibragli anche il nomignolo di Franceschierlo. Gigi Di Fiore, invece, in questo suo bellissimo libro traccia una figura nuova, più complessa, partendo dal periodo che va dalla fine dell'assedio di Gaeta fino alla morte di Francesco II ad Arco di Trento. E appunto riesce sia da un lato ad essere preciso nel, diciamo, riproporre i fatti storici che sono accaduti in quegli anni, ma anche nell'appassionare i lettori proprio sulla vita di Francesco II, quindi approfondendone il carattere, gli avvenimenti personali, umani, anche religiosi, che gli sono accaduti. E questo va a colmare un po' un vuoto, perché la storiografia, come dicevamo prima, si era soffermata sempre sui pochi mesi di regno di Francesco II, tralasciando in gran parte, invece, quello che gli è accaduto dopo. E quindi questo è un fatto nuovo che, diciamo, offre tantissimi spunti di riflessione. E ovviamente questi verranno approfonditi poi anche con dei relatori di eccezione, tra cui ricordiamo appunto il professore Gennaro De Crescenzo, che è il fondatore nel 1993, presidente del Movimento Neoborbonico, e il Cavaliere Giuseppe Barra, che è il presidente del Centro Culturale e Studi Storici di Eboli. E quindi avremo modo, insomma, dopo i vari interventi, anche di fare domande, anzi, invitiamo tutti i telespettatori a partecipare, a partecipare con interesse, ponendo anche tante domande, dato che alla fine della presentazione del libro ci sarà appunto questo dibattito, un po' anche a 360 gradi, quindi non solo sulla figura di Francesco II, ma un po' su tutti gli avvenimenti che hanno caratterizzato il risorgimento italiano, che sicuramente, insomma, al di fuori di varie polemiche, eccetera, è un periodo che sicuramente merita di essere approfondito e conosciuto meglio. Bene, quindi mi raccomando, non lasciatevi sfuggire questa occasione. E per conoscere, ecco, la storia dell'ultimo re di Napoli, così interessante, scritta da una penna importante, quale quella del giornalista Gigi Di Fiore, e per visitare il convento di San Martino, insomma, che è un monumento storico del Cilento che bisogna, almeno una volta nella vita, a vedere. Quindi, mi raccomando, tutti il 28 giugno, presso il convento di San Francesco di Lustra, alle ore 18, per questo importante appuntamento.